Centromarca Banca sbarca nel cuore di Treviso. Aprirà infatti a breve una nuova filiale in via Santa Margherita, a pochi metri da Piazza dei Signori. L'istituto di Via Selvatico, che il 17 maggio presenterà il bilancio 2018 agli oltre 8.500 soci, è reduce da due fusioni negli ultimi tre anni. Una scommessa che, dati alla mano, è stata vinta dai vertici della banca. Erogazioni a famiglie e imprese per oltre 200 milioni di euro. Cliente Lander 25 è aumentata dal 18% e più 30% di nuove piccole e medie imprese. Numeri che evidenziano una crescita, ma anche il bisogno di un territorio di ritrovare fiducia nelle banche, dopo la vicenda delle popolari venete. Abbiamo al 31-12-2018 un utile netto di quasi 15 milioni di euro. Questo si traduce in un significativo rafforzamento patrimoniale. Questo vuol dire sicurezza, tutela degli sparmi, ma vuol dire anche poter erogare con maggior forza credito all'economia reale. E questo è importante. Banca di valore, banca di valori. È una sorta di slogan che i vertici di Centromarca Banca hanno ripetuto più volte per ribadire la vocazione sociale dell'Istituto. E i contributi al mondo dell'associazionismo e del volontariato, aumentati dal 77% negli ultimi 12 mesi, raggiungendo quota 250 mila euro, ne sono una testimonianza. E poi il progetto Centromarca Banca for People, una piattaforma di crowdfunding, voluta per dare aiuto e visibilità a chi non avendo disponibilità economiche, cerca sostegno per realizzare progetti utili per la collettività. Sono dieci i progetti inseriti in piattaforma, tra questi l'acquisto della carrozzina per l'atleta paralimpico Gian Domenico Sartor in vista delle Olimpiadi di Tokyo e la costruzione del centro di urno per disabili, la Rosa dei Venti a Mogliano. L'attività bancaria è un mezzo per sostenere il territorio, uno strumento. In realtà la nostra mission è quella di valorizzare il territorio attraverso iniziative di tipo sociale, culturale, ovviamente anche economiche.